Un'attenzione particolare, quella del comune riservata alle menze scolastiche, è stato presentato un progetto con la vivenda, la società che si occupa dei pasti nelle scuole, un progetto per il biologico. La filiera corta per il comune è molto importante e prevede fornitori locali. Si va sempre più verso una maggiore attenzione alla cura e all'alimentazione dei più piccoli, anche chi ha allergie particolari alimentari. Un appalto ha ricordato il sindaco Biondi da 5 milioni e 700 mila euro per le menze, oltre 3.500 pasti ogni giorno per i bambini nelle scuole. L'assessore alle politiche sociali, Manuela Turzini, ha ricordato che per la menza aquilana si paga la retta più bassa d'Italia. Il comune, nonostante tutto, ha deciso di non aumentarla. Il progetto è quello della vivenda, che è di altissima qualità, quindi è un discorso che riguarda non soltanto il cibo biologico, che quindi prevede anche una filiera corta, ma anche un rispetto dell'ambiente attraverso l'utilizzo di posate di acciaio, di coccio, utensili di coccio e poi soprattutto un servizio che comunque considera sempre le problematiche relative anche alle intolleranze alimentari che riguarda il 10% dei bambini. E poi vogliamo anche tragrettare questo progetto attraverso una sensibilizzazione all'educazione alimentare. La vivenda ha spiegato che già si prevedeva un apporto del biologico importante, ora si aumenta. Inoltre il comune potrà certificarsi come menza biologica e potrà chiedere finanziamenti alla comunità europea in virtù di questo progetto. Verrà eliminata la plastica sempre più, usando il coccio e le posate in acciaio. La vivenda ha inoltre acquistato dei macchinari nuovi per le cucine a grande risparmio energetico e si segnala l'aumento dei dipendenti, che arriveranno a breve a 130. Non ci saranno più le bottigliette di plastica gradualmente, ma distributori d'acqua nelle scuole. Già il capitolato della nuova gara prevedeva un biologico abbastanza spinto, ovvero richiedeva almeno il 50% dei prodotti previsti da CAM per le menze aquilane. Noi nella nostra offerta tecnica l'abbiamo portato in alcuni casi al 100%, come la carne, come la frutta, come le uova e tanti altri prodotti che superano il 75-80%. Questo permetterà al Comune dell'Aquila di rientrare e chiedere dei finanziamenti dalla Comunità Europea per essere certificata mensa biologica. E pertanto poi questi soldi possono essere reinvestiti per i nostri bambini.